Belle donne buongiorno e ben ritrovate qui sul canale, sono contentissima di essere di nuovo qui insieme a voi come avete notato mi sono preso una lunga pausa sia da youtube che da instagram, una pausa di due mesi più o meno ne avevo molto bisogno, avevo bisogno di staccare un po' da tutti i social, da tutte le attività connesse e avevo e ho ancora una serie di situazioni mie legate alla mia vita personale da gestire e che richiedevano tutta la mia attenzione, adesso sto ingranando, sto un po' riorganizzando la mia vita e quindi sono di nuovo qui con voi a parlarvi dei nostri argomenti preferiti e cioè la moda e il beauty per noi ragazze over 50 ringrazio tutte voi che mi avete scritto, che mi avete contattata, che mi avete chiesto se sto bene se va tutto bene, si tranquille va tutto bene, io sto bene, marito sta bene le due principesse, anzi principessa Zoe e imperatrice Margot stanno benissimo dopo se girano da queste parti ve le faccio salutare quindi grazie tante per il vostro interessamento e per l'affetto che mi avete dimostrato eccola, eccola qua Margot, Margot sta benissimo, è sempre la solita prepotente sempre la solita imperatrice che comanda il mondo intero e sono contenta di farvela rivedere in tutto il suo splendore Margot saluta le Dade, ciao Dade e naturalmente abbiamo anche la principessa Zoe qui con noi Zoe sta bene, devo dire che ci ha fatto prendere un po' paura perché a inizio febbraio sembrava che avesse dei problemi piuttosto importanti sembrava che avesse addirittura due sarcomi poi abbiamo fatto delle analisi più approfondite delle ecografie con il contrasto, insomma tutta una roba complicatissima e invece è saltato fuori che per fortuna non erano sarcomi ma solo delle infiammazioni piuttosto importanti quindi cortisone, terapie, tutto quello che serve però adesso è bella vispa e arzilla come prima e siamo tutti contenti è vero? anche tu saluta le Dade ciao Dade, non ne ha mica tanta voglia e allora ricominciamo e parliamo di fashion così come mi avete chiesto nel sondaggio che vi ho proposto su Instagram qualche giorno fa e in particolare parliamo di moda sostenibile è un argomento molto importante, molto sentito io sono molto contenta di vedere che sempre più persone si avvicinano a questo concetto e cominciano a fare scelte d'acquisto orientate in questo senso e oggi vi parlo di un marchio che secondo me sta facendo un ottimo lavoro proprio per quanto riguarda la moda sostenibile il marchio si chiama King Louis ed è un marchio olandese in realtà io avevo già fatto un acquisto su Zalando di un loro capo perché King Louis si trova sia sul loro sito ufficiale che su Zalando e devo dire l'acquisto secondo me è stato un ottimo acquisto sono contentissima, è un capo che uso molto e che mi piace molto ma non avevo approfondito invece recentemente ho approfondito ho avuto voglia di andare a cercare più informazioni su questo brand e sono rimasta piacevolmente sorpresa loro sono molto molto coinvolti, molto molto attivi nell'ambito della moda sostenibile e lo fanno a 360 gradi quindi materiali, produzione, adesione a programmi europei e internazionali per ridurre i consumi di acqua per non utilizzare sostanze chimiche pericolose rispetto delle condizioni di lavoro insomma hanno veramente un coinvolgimento molto molto importante in questo senso utilizzano dei materiali freschissimi soprattutto per quanto riguarda appunto la primavera estate io lì ho trovato veramente quello che cercavo per cui viscosa, lensing, ecovero, tencel, cotone organico, denim organico quindi prodotti veramente con dei materiali ottimi e se volete saperne di più io vi lascio qui sotto il link al loro sito dove c'è una sezione grandissima molto ben strutturata e articolata dove vi spiegano proprio tutta la loro politica ecosostenibile compresa quella dei materiali e delle spedizioni cartoni riciclato addirittura se vivete ad Amsterdam potete anche scegliere la consegna in bicicletta perché hanno appunto la possibilità di farvi recapitare i capi che acquistate sul sito tramite dei corrieri che lavorano in bicicletta ad Amsterdam succede anche questo magari succedesse anche qua da noi chissà magari un giorno magari un giorno potremo scegliere anche questa opzione spero prima possibile ma parliamo adesso dello stile e della collezione in corso allora lo stile di King Louis è abbastanza pulito ma allegro e colorato quindi è un po' un mix di minimalismo ma il tutto è realizzato con accostamenti di colori e fantasie che sono decisamente più vivaci e molto creativi molto originali quindi non risulta pesante e soprattutto risulta molto vivibile molto sfruttabile nella vita di tutti i giorni anche se ci sono capi che volendo si possono utilizzare anche in occasioni un po' più formali o perché no anche per le cerimonie lo stile in generale è molto femminile a tratti se vogliamo anche un po' romantico ma senza esagerare mai lezioso le linee sono pulite e semplici così come i modelli e sono modelli mai eccessivamente skinny mai troppo stretti sono linee morbide che si accostano al corpo senza costringerlo e questo fa sì che anche la vestibilità sia decisamente ottima comunque per cominciare io vi mostrerei subito questa t-shirt che in realtà non è proprio una t-shirt è una maglia perché è realizzata in filato e in particolare è realizzata in cotone organico e poliestere la percentuale è 75% cotone organico e 25% in poliestere la presenza del poliestere è necessaria in quanto parte della maglieria è in lurex quindi brillante e sappiamo bene che il lurex non può essere naturale deve essere realizzato necessariamente con un materiale sintetico assolutamente non pizzica perché il primo dubbio che viene quando indossiamo qualcosa che ha del lurex è che possa in qualche modo grattare irritare la pelle invece non lo fa perché è un materiale trattato nella maniera giusta per essere confortevole sulla pelle e a me è piaciuto subito l'accostamento dei colori come vedete abbiamo un motivo a righe diagonali che convergono verso il centro e questo motivo diciamo così a punta a V contribuisce a slanciare ad aprire le spalle e ad allungare il collo i colori come vedete sono bellissimi e sono molto particolari soprattutto accostati insieme abbiamo un giallo oro quasi senape e un celeste molto intenso ognuna di queste righe all'interno ha una riga nera il che rende ancora più grafico tutto l'effetto finale i bordi invece sono in color corda naturale sempre però brillanti in lurex la presenza di colori neutri come il color corda e il nero accostati appunto a questi colori più vivaci rende molto facile l'abbinamento bastano un paio di pantaloni neri classici come quelli che sto indossando io adesso o un paio di jeans o un paio di pantaloni magari in lino color corda per creare subito l'abbinamento perfetto il secondo capo che ho scelto di acquistare è sempre un pull è quello che sto indossando in questo momento stavolta la composizione è diversa abbiamo un 96 per cento di cotone organico e il 4 per cento è lurex perché c'è una piccola percentuale di lurex nei bordi questi bordi color turchese che vedete in evidenza sia a fine manica che nello scollo a vu che nel fascione in basso il pull è a mezza manica e quindi particolarmente adatto alla stagione di mezzo quindi alla primavera a questi giorni in cui non si sa bene se fa caldo se fa freddo e non sappiamo bene come vestirci per cui si può portare tranquillamente da solo o con una giacca un blazer nero sopra per esempio o un giubbino di jeans saranno sicuramente perfetti mi avvicino per farvi vedere la fantasia abbiamo una fantasia astratta di questo sembra quasi un fiore un giglio stilizzato ripetuto all over quindi per tutto il tessuto la base è sempre turchese ma leggermente più chiara rispetto al bordo e il fiore appunto è disegnato in nero e arancio quindi colori che danno un buon contrasto diciamo rispetto alla base turchese anche qui l'abbinamento con un pantalone nero classico è assolutamente perfetto ma io lo preferisco con dei jeans come questi lavaggio medio chiaro bene belle donne per oggi è tutto io spero che il video vi sia piaciuto spero soprattutto di avervi dato qualche informazione utile che possiate successivamente utilizzare nel vostro prossimo shopping vi ringrazio moltissimo per essere state con me e per aver avuto la pazienza di vedere il video e vi lascio con un paio di domande scegliamo insieme l'argomento per il prossimo video beauty cambia la stagione cambiano le routine come cambia la mia beauty routine skin care e make up con l'arrivo della primavera estate oppure eco sostenibilità e low cost possono convivere alcuni esempi da reserved e da zara surplus scrivetemi le risposte qui sotto nei commenti non vedo l'ora di sapere cosa preferite se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso è semplicissimo cliccate su questa foto se invece volete ripassare un po' di video delle mie guide shopping potete farlo cliccando sulla foto in alto noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione